Ciao ragazzi, oggi parleremo di un movimento artistico e letterario che ha profondamente rivoluzionato la poesia, la pittura, la scultura, insomma tutto il mondo dell'arte e delle lettere, il futurismo. Per prima cosa contestualizzeremo storicamente il movimento, in seguito definiremo i termini più significativi della sua poetica attraverso un testo intitolato Il Manifesto del futurismo, sempre richiestissimo alla maturità. Bene, partiamo. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento nacquero due movimenti letterari che si inseriscono all'interno di quel clima culturale che abbiamo definito decadentismo, ovvero il futurismo e il crepuscolarismo. Queste due correnti si svilupparono come reazione alla crisi che investì la cultura, la politica e la società a cavallo tra i due secoli. Il loro atteggiamento è però radicalmente opposto. Da una parte i poeti crepuscolari rappresentano il tramonto della poesia dell'Ottocento, dall'altra i futuristi si rivolgono invece violentemente al futuro e tra poco capirete come e perché. Innanzitutto, vi siete mai chiesti perché sulla moneta italiana da 20 centesimi di euro appare proprio una scultura futurista di Umberto Boccioni, perché il futurismo fu il primo movimento della modernità letteraria che nacque in Italia e venne imitato dagli altri paesi d'Europa, a differenza di tutti gli altri movimenti che abbiamo analizzato nel corso dell'Ottocento, che invece erano imitazioni di altre correnti nate all'estero, in particolare in Francia. Ad esempio, il verismo si rifaceva al naturalismo francese, mentre il romanticismo era principalmente tedesco e inglese. Con il futurismo nascono le avanguardie artistiche. Questo termine, avanguardia, è riferito per la prima volta a una corrente artistica e deriva dal lessico militare, dove indica i reparti più avanzati dell'esercito, composti da soldati temerari, audaci, i più aggressivi, insomma. Saranno proprio queste le caratteristiche delle avanguardie storiche, che esalteranno la libertà, la trasgressione, ricercando un linguaggio e un pubblico nuovi. Le avanguardie applicheranno infatti una vera e propria rottura totale con tutto ciò che è passato. Il futurismo venne fondato il 20 febbraio 1909 a Parigi, quando Filippo Tommaso Marinetti pubblicò su Le Figaro un testo intitolato Il Manifesto del Futurismo. Siamo davanti a un testo originalissimo, un elenco chiaro e programmatico in 11 punti che presenta la poetica di questo movimento. Marinetti scelse Parigi per pubblicare questo manifesto di violenza travolgente e incendiaria, come egli stesso scrive, perché Parigi era la capitale della cultura europea. Una grande cassa di risonanza, insomma, attraverso la quale il nuovo movimento si sarebbe diffuso rapidamente. In realtà il manifesto era già pronto l'anno prima, ma per via del terribile terremoto di Messina, 1908, Marinetti preferì attendere un anno di tempo per evitare che il suo manifesto passasse in secondo piano. Vediamo ora da più da vicino cosa contiene questo manifesto. In primo luogo, futuro significa velocità. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Un'automobile da corsa, col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo, un'automobile ruggente che sembra correre sulla mitraglia è più bello della vittoria di Samotracia. Questi artisti identificano la vita con il dinamismo e la morte con la staticità, da qui deriva il loro vero e proprio culto per la velocità che si trasforma in slancio vitale. L'arte deve essere sempre in grado di cogliere tale dinamismo nell'istante stesso in cui si manifesta, senza interruzione da parte della ragione, della coscienza o dei sentimenti. Scrive Marinetti La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi e il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno. In secondo luogo, futuro significa progresso. I futuristi sono affascinati dalle evoluzioni tecnologiche. Nelle loro opere d'arte ricorrono automobili, aeroplani, locomotive, piroscafi, ponti di acciaio, le fabbriche, i lampioni, definiti come violente lune elettriche e in generale le città industriali. Il mito del progresso si traduce anche in una radicale critica al passato. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche e le accademie di ogni specie. I futuristi vogliono liberare l'Italia dalla sua fetida cancrena di professori, da archeologi, d'antiquari di ogni specie. Questo rifiuto del passato vede nel museo il bersaglio privilegiato, una sorta di tomba, un mausoleo eretto in un'ora del passato. Marinetti paragona i musei ai cimiteri, in cui i pittori morti si contendono gli sguardi dei visitatori a colpi di colore. Il modo ironico concede che una volta all'anno si vada al museo, come si va al Campo Santo il 2 di novembre nel giorno dei morti. Ci concede che in questo giorno sia deposto un omaggio di fiori ai piedi della gioconda. Questi intellettuali organizzavano non a caso vere e proprie azioni futuriste all'insegna della provocazione, che si concludevano sempre in risse clamorose e con l'arrivo della polizia. I futuristi criticano anche il romanticismo lacrimevole. Uccidiamo il chiaro di luna, riporta come titolo un altro testo di Marinetti. Attaccano anche la psicologia, intesa come letteratura dell'io, dell'uomo immobile e avariato nei suoi pensieri. Insomma, si scagliano contro tutto ciò che può rallentare l'uomo nella sua cieca corsa al futuro. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli, perché dovremmo guardarci alle spalle? Beh, forse per non ricommettere gli errori del passato. Non è un caso che uno dei punti più scioccanti del manifesto, il nono, reciti «Noi vogliamo glorificare la guerra, sola igiene del mondo, il militarismo, il patriottismo e cantare il disprezzo per la donna». I futuristi, infatti, saranno interventisti nel 1914 e molti di loro combatteranno come volontari nella Prima Guerra Mondiale. Più complesso risulta invece il rapporto con il fascismo. Il futurismo si configura sicuramente, da quello che abbiamo appena sentito, come un movimento di destra ed è molto vicino sia per retorica che per ideologia al partito di Mussolini. Sostengono infatti il nazionalismo, il bellicismo, l'antiparlamentarismo e propugnano idee antiliberali e antidemocratiche. In seguito, però, quando in Italia si instaurò la dittatura, le avanguardie, con la loro voglia di rompere con le regole, con il passato, entreranno in conflitto con le basi ideologiche del fascismo. Mussolini proporrà l'esaltazione della Roma imperiale, dell'ordine, della disciplina. Dal 1929 in avanti il futurismo si adeguerà al richiamo all'ordine del regime. E addirittura l'anti-accademico Marinetti, che nel manifesto scriveva di voler distruggere appunto le accademie, accetterà l'incarico di Accademico d'Italia. Insomma, partono tutti incendiari e fieri e poi finiscono tutti pompieri. A livello filosofico il futurismo fonda le sue radici nel pensiero di Nietzsche, mediato in Italia da D'Annunzio e dal suo culto per il superuomo e la supernazione. Ma è evidente anche l'influenza del concetto di violenza sociale di Söhrer e di slancio vital di Bersant. Visto l'incredibile successo del primo manifesto, inizieranno ad essere pubblicati altri manifesti dedicate alle tecniche specifiche da utilizzare in ogni campo dell'arte, come il manifesto tecnico della scultura futurista, della pittura, dell'architettura, della musica, della danza, ma anche legati al costume come il manifesto della donna futurista o il manifesto della cucina futurista, che scadono un po' nel gusto della critica ad ogni costo, diventando quasi una moda. Noi vogliamo abolire la pasta asciutta, assurda religione gastronomica italiana. Tra questi manifesti, oltre a quello che abbiamo visto oggi, che funziona un po' da denominatore comune a tutte le declinazioni del futurismo che nasceranno in questi anni, ce n'è un secondo di grande importanza per la letteratura, intitolato proprio il manifesto tecnico della letteratura futurista, che ci spiegherà come scrivere una poesia come questa. Per oggi fermiamoci qua però, ne parliamo nella prossima puntata. E ricordate che chi è in guerra con il mondo non è in pace con se stesso. Ciao, alla prossima!